settimana enigmistica quante volte siamo partiti e ci siamo ritrovati sotto l'ombrellone a compilare la settimana enigmistica ai suoi schemi e alle parole crociate io personalmente adoro il settimanale ma al di là di quello che che faccio la cosa interessante è stata un giorno abbiamo deciso di provare a creare uno schema di parole crociate con delle parole che avessero a che fare con noi quando l'abbiamo fatto siamo riusciti e l'idea è stata da quel punto perché non creare un'attività in cui i partecipanti debbano indovinare debbano sfidarsi a trovare le parole che riguardano la propria azienda quindi abbiamo creato degli schemi giganti composti da parole che riguardano prodotti servizi persone all'interno del proprio team quindi è stato carino perché le persone innanzitutto devono guadagnarsi delle definizioni devono guadagnarsi la possibilità di risolvere gli enigmi proposti di risolvere il cruciverba o ritolvere lo schema e che è molto carino perché i partecipanti devono innanzitutto guadagnarsi la possibilità di rispondere alle definizioni quindi guadagnarsi le definizioni corrispondere e completare parzialmente lo schema e alla fine delle prove per guadagnare ottenere le definizioni c'è la possibilità di compilare lo schema vero e e lì poi c'è una sfida dove dove tutti si divertono e sono in massima competizione per riuscire a scrivere il maggior numero di lettere rispetto alle altre squadre è un'attività molto carina perché molto personalizzata e all'interno troviamo definizioni che riguardano le persone gli stessi componenti del team e quindi diventa anche modo per ridere di sé ridere insieme divertirsi testando la conoscenza della propria azienda della propria squadra del proprio business del proprio mercato